Empedocle è stato un filosofo e politico siceliota, vissuto nel V secolo a.C. ad Acragas, oggi Agrigento. Ricordiamo che i sicelioti o sicilioti o anche greci di Sicilia erano gli abitanti delle poleis greche di Sicilia. Si diffondono inizialmente nelle coste orientali e meridionali dell'isola. Città principali sono Siracusai, cioè Siracusa, Gelas, cioè Gela e Acragas, appunto Agrigento. E successivamente, fino alla conquista romana, colonizzano quasi interamente la costa siciliana. Secondo il racconto di Diogene Laerzio, Empedocle nasce da una nobile e ricca famiglia di Agrigento. Partecipa alla vita politica delle città negli anni fra il 446 e il 444 a.C. schierandosi dalla parte dei democratici e contribuendo al rovesciamento dell'oligarchia formatasi all'indomani della fine della tirannide. Si dice che avesse uno spirito caritativo nei confronti dei poveri è severo verso gli aristocratici e anche che abbia rifiutato il governo della città che gli era stato offerto. Sempre secondo Diogene Laerzio, Empedocle entra a far parte della scuola pitagorica diventando allievo di Telauge, figlio di Pitagora. Segue la dieta pitagorica, ossia il vegetarianismo, rifiutando i sacrifici animali. Secondo la leggenda, dopo una vittoria olimpica alla corsa dei carri, per attenersi all'usanza secondo cui il vincitore doveva sacrificare un bue, ne fa fabbricare uno di mirra, incenso e aromi e lo distribuisce secondo la tradizione. La sua oratoria brillante, la sua conoscenza approfondita della natura e la leggenda sui suoi presunti poteri sovrannaturali, tra cui la guarigione delle malattie, hanno prodotto molti miti intorno al suo nome. Si diceva ad esempio che fosse un mago capace di controllare le tempeste. Lui stesso nella sua opera dal titolo Purificazioni sembra abbia affermato di essere dotato di facoltà miracolose, compresa la distruzione del male, la guarigione dalla vecchiaia e il controllo del vento e della pioggia. I sicelioti lo veneravano come profeta e gli attribuivano numerosi miracoli. Alcuni sostengono che si sia suicidato gettandosi nel cratere dell'Etna e che il cano poco dopo abbia eruttato uno dei suoi famosi sandali di bronzo. In realtà non sappiamo se sia morto in patria oppure nel Peloponneso, dove era probabilmente stato esiliato dai suoi nemici. Secondo Aristotele, Empedocle muore all'età di 60 anni nel 430 a.C. circa, mentre altri autori affermano che visse fino all'età di 109 anni. La tradizione attribuisce a Empedocle numerose opere, fra cui anche alcuni trattati di medicina, politica e storia e alcune tragedie. A noi sono giunti però soltanto frammenti dei suoi due poemi, il primo intitolato Sulla Natura e il secondo Purificazioni. Sulla Natura è un'opera di carattere cosmologico e naturalistico e ne sono arrivati fino a noi circa 400 versi sugli originali 2.000. Purificazioni è invece un'opera di carattere teologico e mistico e abbiamo oggi poco meno di un centinaio di versi rispetto agli originali 3.000. La lingua usata da Empedocle è il dialetto ionico. Dall'opera Sulla Natura comprendiamo come la filosofia di Empedocle si presenti come un tentativo di combinare le precedenti dottrine pitagoriche, eraclitee e parmenidee. Quindi delle dottrine parmenidee accetta la tesi dell'immutabilità e dell'eternità dell'essere, ovvero che nulla nasce e nulla muore. Di quelle pitagoriche ed eraclitee invece sostiene l'idea del divenire, cioè del continuo e incessante mutamento delle cose. Empedocle cerca di risolvere la contraddizione tra essere e divenire distinguendo la realtà che ci circonda, che è mutevole, quindi il divenire, dagli elementi primi che la compongono, che sono invece immutabili, quindi l'essere. Questo è molto importante, quindi lo ripetiamo. Empedocle cerca di risolvere questa apparente contraddizione tra essere e divenire distinguendo due cose, quindi la prima è la realtà che ci circonda, che è mutevole, quindi è il divenire. E la seconda cosa sono gli elementi primi che compongono questa realtà, che sono invece immutabili e rappresentano l'essere. Empedocle chiama questi elementi primi con il nome di radici, che definisce non nate, cioè non generate, ed eternamente uguali. Le radici, secondo Empedocle, sono quattro e a ognuna di esse associa un dio della mitologia greca. La prima radice è il fuoco, associato a Zeus, capo di tutti gli dèi. La seconda radice è l'aria, associata a Hera, dea del matrimonio, della fedeltà coniugale e del parto. La terza radice è la terra, associata a Edoneo, detto anche Ade, dio delle anime, e la quarta radice è l'acqua, associata a Anesti, che è la ninfa delle acque. Secondo Empedocle, l'unione delle diverse radici determina la nascita di tutte le cose e la loro separazione, quindi la separazione delle diverse radici determina invece la morte. Si tratta però, secondo Empedocle, di apparenti nascite e apparenti morti, dal momento che l'essere, cioè le radici stesse, non si crea e non si distrugge, ma è semplicemente in continua trasformazione. Se si prescinde dalla figura ancora poco conosciuta di Pitagora, Empedocle è il primo dei filosofi presocratici a voler riunire in un unico sistema le concezioni filosofiche e le credenze religiose. Per Empedocle, infatti, essendo l'origine degli esseri umani divina, questi raggiungeranno la vera felicità soltanto dopo la morte, quando si riuniranno agli dèi. Empedocle identifica poi due ulteriori principi, che sono il motore del divenire delle radici e quindi delle molteplici realizzazioni della realtà. Questi due principi sono amore, con la maiuscola, e odio, con la O maiuscola. Odio che lui chiama anche discordia oppure contesa. Amore ha la caratteristica di legare, congiungere e avvincere, mentre odio separa e divide. Quando prevale amore, tutte le radici sono fuse insieme in una sfera perfettamente omogenea, senza conflitti interni, isolata in mezzo al nulla, infinita, che Empedocle chiama sfero. Quando invece prevale odio, sempre presente alla periferia dello sfero, le quattro radici si separano dallo sfero stesso, dando origine al cosmo e alle sue creature viventi. Queste sono prima bisessuate, cioè posseggono sia le caratteristiche riproduttive maschili, sia quelle femminili, e poi, sempre sotto l'azione di odio, si differenziano ulteriormente in maschi e femmine, poi ancora in esseri mostruosi e infine in membra isolate. Alla fine di questo ciclo, amore riprende l'iniziativa e dalle membra isolate nascono prima esseri mostruosi, che si trasformano poi in maschi e femmine, poi ancora in esseri bisessuati, e sempre sotto l'azione di amore, tornano a essere le quattro radici che vanno infine a ricomporre lo sfero. Quindi, secondo Empedocle, il suo mondo, quello cioè in cui esistevano il sesso maschile e quello femminile, si trovava a metà strada tra amore e odio, e quando avrebbe raggiunto l'odio, si sarebbe distrutto completamente, per poi iniziare a ritroso la sua rinascita. Quindi, ancora oggi, ammettendo l'inesistenza di creature mostruose, secondo Empedocle ci troveremmo ancora a metà strada tra odio e amore, ma certamente più vicini a odio. Questo è tutto sull'opera sulla natura, parliamo adesso delle purificazioni. Quindi, nelle purificazioni, Empedocle riprende la teoria orfica e pitagorica della metempsicosi, termine che nella filosofia occidentale indica la reincarnazione, affermando l'esistenza di una legge di natura che fa scontare agli uomini le proprie colpe attraverso una serie continua di nascite e di morti, tramite le quali l'anima, di origine divina, trasmigra per millenni da un essere vivente all'altro, che sia questo animale o vegetale. Ecco, abbiamo parlato di teoria orfica, quindi ricordiamo che l'orfismo è un movimento religioso nato in Grecia, presumibilmente nel VI secolo a.C., intorno alla figura di Orfeo, un personaggio della mitologia greca che rappresenta l'artista per eccellenza, ma anche lo sciamano in grado di parlare con i morti e di incantare gli animali. Appunto, la teoria della metempsicosi era sia una teoria orfica sia pitagorica. Quindi, come abbiamo già accennato in precedenza, parlando della vita di Empedocle, questa sua teoria della metempsicosi conduce al rifiuto assoluto del sacrificio di ogni essere vivente, sacrificio inteso ovviamente come uccisione, poiché in ognuno di essi vi è un'anima umana che sta compiendo il suo ciclo di reincarnazione. Se nel corso di questo ciclo l'anima si comporta secondo giustizia, al termine di esso potrà tornare nella sua condizione divina. Come Pitagora, quindi, anche Empedocle rifiuta i sacrifici animali e l'alimentazione carnea, che è una bella parola che non conoscevo per indicare appunto l'uso di carne per l'alimentazione umana. Quindi rifiuta l'alimentazione carnea sostenendo che, aperte virgolette, onde, uccidendoli e nutrendoci delle loro carni, commetteremo ingiustizia ed empietà, come se uccidessimo dei consanguinei. Non cesserete dall'uccisione che ha un'eco funesta? Non vedete che vi divorate reciprocamente per la cecità della mente? Chiuse virgolette. Chiudiamo dicendo che quest'opera, appunto intitolata Purificazioni, presenta delle contraddizioni difficili da conciliare rispetto all'opera precedente, intitolata Sulla Natura. Ad esempio, nelle Purificazioni, l'anima è definita mortale, mentre nella seconda, quindi sulla natura, Empedocle teorizza la metempsicosi, quindi l'immortalità dell'anima. Alcuni hanno spiegato queste incongruenze con la versatilità di Empedocle, che era uno studioso ma anche un profeta al tempo stesso, come abbiamo visto, mentre altri hanno addirittura ipotizzato una paternità diversa delle due opere. Bene, questo video termina qui, spero vi sia utile, come sempre un sincero grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima.